Le vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo la Costa e di San Benedetto Ullano, le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo la Costa, 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli permercati e supermercati Il Gigante. Ben ritrovati gentili amici che ci state seguendo in questo nuovo appuntamento con la zona Juve, Il day after Juventus-Inter è sicuramente stata una bella partita che si è conclusa 0-0, però una Juventus in ripresa dopo le ultime uscite sicuramente non troppo convincenti. I bianconeri hanno strappato un punto e stanno cercando di uscire da quella crisi che li ha colpiti all'inizio stagione. Parleremo naturalmente di Inter e Juventus con il nostro ospite Amos Ancelotti. Ciao Amos. Ciao a te e buona serata anche ai nostri amici. Cosa dobbiamo dire subito ai nostri amici che ci seguono sempre in tanti, che anzi ringrazio perché ci sono arrivate numerose mail, dopo le andremo a leggere. Una Juventus che ha dimostrato nel secondo tempo di potersela giocare tranquillamente, male, forse sotto tono la prima frazione, però è in ripresa, possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo anche non proprio convinto come io speravo, speravo in una vittoria, non è arrivata. Tu avevi detto 2-1. Sì, mi ricordo benissimo e non lo nego, quel 2-1 con dei gol di Bala e Hernanes, invece di Bala non ha giocato, è rientrato dopo verso la prima. E neanche Hernanes. E neanche Hernanes. Comunque al di là di quello, una Juventus mi ha convinto in parte perché vedo che Allegri sta lavorando molto bene. Devo dire che il secondo tempo della Juventus mi ha convinto che c'è una netta ripresa a livello di gioco, soprattutto perché la Juventus ha giocato bene. Quella è importante. Poi ho visto un Barzagli superlatino, un Barzagli che non immaginavo avesse giocato così bene, in un ruolo che non è poi suo, perché giocare terzino-destra sulla fascia, è lui che è abituato a fare il centrale. Poi mi è piaciuto Chedira, mi è piaciuto Quadrado e mi è piaciuto anche Zaza, anche se qualcuno ancora non è convinto che è Zaza. E soprattutto lasciando di panchina ancora una volta Di Bala, ricordiamo che ho pagato 40 milioni di euro, ho tornato tardi dalla Nazionale e infatti è stato proprio questo il motivo della panchina di Di Bala, lo ha spiegato chiaramente Allegri che poi sentiremo. Però scelta di Zaza... Ma per me è stata ottima perché Zaza ha bisogno di giocare, anche perché Zaza ha dimostrato che se entra in gioco e riesce a entrare in partita è molto pericoloso. E poi perché anche Di Bala deve giocare mercoledì sicuramente in Coppa Campioni e quindi magari l'ha fatto anche riposare un po', lo stesso Morata, non è stato all'altezza delle solite partite. Ho rivisto nel secondo tempo anche Pogba. Ciò che nel primo tempo mi aveva ancora... Deluso. Non dico deluso, però non l'avevo visto in partita. Ovviamente negli spugliatoi dopo la fine del primo tempo, dove l'Inter sicuramente... Beh, forse possiamo dire deluso, eh. No, deluso no, dai. Forse quel ragazzo lì sa che ha sulle spalle un numero importante, il numero 10. Sa che i tifosi lo aspettano al Varco. Ma comunque Mancini era stato bravo, insomma. Mi ha riuscito a... Mi ha convinto anche nel modo con cui ha messo giù la squadra. E naturalmente l'uomo chiave era Jovetic. Amos, dobbiamo fare subito una domanda ad un nostro amico che è in collegamento, che quasi ogni settimana noi sentiamo per capire qual è l'umore della tifoseria bianconera, oltre al tuo parere, Gian Piero Santucci, che salutiamo. Ben ritrovato Gian Piero, buonasera. Ciao Gian Piero. Buonasera a tutti ragazzi, ciao Amos. Ecco, stavamo parlando di Pogba, un po' di delusione per il calciatore francese per come ha giocato, sicuramente ci si aspettava qualcosa in più e poi voglio un tuo commento sul derby d'Italia che si è concluso sullo 0-0 che comunque ha dato un piccolo segnale alla Juventus che in questo momento la squadra è in ripresa e ci vorrà del tempo per raggiungere il top. Sì, come hai detto tu giustamente Marco, scusate un po' per la voce ma sono un po' raffreddato. Come me, come me. Tranquillo, dai. Allora, per quanto riguarda il derby d'Italia, risultato fondamentalmente giusto anche se noi abbiamo il rammarico del gol mangiato da Ghedira. Poteva essere la partita della svolta ma purtroppo è andata così. Comunque rispetto alle giornate precedenti sono molto più fiducioso perché piano piano la squadra inizia a carburare. Ma meno male, meno male Gian Piero che condividi un po' la mia speranza in futuro perché ho visto dei giocatori che sicuramente cercheranno e soprattutto io spero ancora che Pogba ritorni a essere lui. Il nostro problema non è tanto Pogba perché poi a centrocampo l'alternativa ci sono. Il problema è che non riusciamo a segnare. Lo ha detto più volte Allegri, nove gol in otto partite sono pochi per una squadra che punta lo scudetto. Ci manca quel famoso stoccatore lì davanti e questa è la nostra mancanza. Gian Piero, è vero ci manca lo stoccatore, però pensa a una Juve del futuro, pensa a una nuova Juventus, giovane soprattutto, con delle qualità diverse da quelle che avevano i grandi campioni che se ne sono andati, ma sicuramente con un prestigio futuro che potrebbe dare alla Juventus tanto ma tanto per poter ringraziare non solo loro ma anche la società che ha avuto fiducia di questi giovanotti. Sono d'accordo con te, però noi dobbiamo guardare il presente, il futuro chi vivrà vedrà, però guardiamo pure il presente, siccome noi siamo la Juve, perlomeno io voglio sempre vincere. Vinco il quarto campionato, vinco il quinto, vinco il sesto, vinco il settimo, non mi interessa far vincere. Siamo bianconeri, ho capito. Hai capito, io voglio sempre vincere, poi soprattutto se capita una situazione come quella di ieri che ci hanno tacciato di banda bassotti. A proposito, qualcuno ci ha tacciato di banda bassotti. Tu hai citato questo, ti volevo proprio fare una domanda sulla coreografia dell'Inter che ricordiamo ha preso in giro la Juventus per la finale persa, per il triplete è mancato proprio all'ultima curva nella finalissima di Champions League, persa con le Barcellona, cosa ne pensi? Ci sta lo sfottò. Sai cos'è? Ci sta lo sfottò, ma a me mi fa piacere che loro vivono sempre di ricordi, capito? Loro da quel triplete poi non hanno più vinto una partita con noi. A me quello fa piacere, che adesso si sono direttati a fare le coreografie, capito? Non fanno più le coreografie sulle loro vittorie. O meglio, la fanno sulle vittorie passate, ma il presente dice totalmente altro. E' quello che conta di più. Se magari si guardano allo specchio un attimo, non penso che si possano dire sempre le solite cose, mai stati in via, sempre quello dicono. E lasciamo perdere la storia del mai stati in via. E lasciamo stare, magari nel 1927 loro poco ricordano. Ci vorrebbe un'altra trasmissione. Giappiero, hai 30 secondi per chiudere il capitolo Champions League adesso, anzi, per aprire e chiudere il capitolo Champions League. Perché mercoledì c'è una partita fondamentale con il Borussia Mönchengladbach. Quanto conta, secondo te, vincere per dire, non dico Champions, ci rivediamo a febbraio, ma quasi? Hai detto benissimo, Marco. Noi dobbiamo, se chiudiamo la pratica con il Borussia mercoledì sera, possiamo anche concentrarci sul campionato, magari buttare qualche energia mentale in più il sabato e la domenica e mettiamo un attimo da parte le energie mentali della Champions. Penso che potremmo ottenere buoni risultati in campionato, se mettiamo da parte il pensiero Champions. Perfetto, Gian Piero, grazie mille per il tuo evento. Anche perché 9 punti, Gian Piero, 9 punti non è che siano poi la fine del mondo. No, vabbè, però rispetto agli altri anni, che poi devi arrivare sempre all'ultima partita, devi giocare il tutto alla fine, invece quest'anno se riesci a chiudere la pratica prima è meglio, no? Ebbene, quello sì, potresti competere di più in campionato, visto che sei in ritardo di classifica in questo momento, è fondamentale la doppia sfida con il Borussia Mönchengladbach. Grazie mille ancora a Giappiero Santucci. Ciao, Gio Piero, ciao. Grazie a voi, ciao, buona serata. Abbiamo ascoltato Giappiero Santucci con il suo solito intervento, lui comunque rimane fiducioso, anche se chiaramente vuole qualcosa di più dell'attacco della Juventus, non ha tutti i torti, i 9 gol in 8 partite sono pochi. Sono pochi, esatto. Direi comunque di andare ad ascoltare adesso Max Allegri, il tecnico bianconero della Juventus, ha parlato al termine del match, noi abbiamo ascoltato e ripreso le sue dichiarazioni, andiamo a sentirlo. Credo che non sia stato un cambiamento dal primo e dal secondo tempo, è quello che ho detto, è solamente che il primo tempo eravamo partiti molto bene per 15 minuti, poi dopo abbiamo sbagliato due o tre palle tecnicamente, e abbiamo concesso all'Inter due o tre ripartenze, l'Inter sono stati molto bravi ad accorciare sulla seconda palla quando trovavano i cardi e noi arrivavamo un pochino in ritardo. È normale che dopo aver speso per 15 minuti bisognava rifiatare, ma bisognava rifiatare con la palla nei piedi e questo non l'abbiamo fatto e questa è una cosa che dobbiamo migliorare. Il secondo tempo invece la squadra ha giocato meglio, ha difeso molto più hard perché riuscivamo a portare 10 giocatori nella metà campo dell'Inter e ne sono stati molto bravi a non farli mai ripartire, anche se alla fine abbia regalato due punizioni di troppo. Siamo tornati nel sud dopo aver ascoltato Max Allegri, comunque fiducioso, lui l'ho visto soddisfatto anche nelle interviste che l'hai rilasciato alle emittenti e ad altri emittenti possiamo considerare un Max Allegri fiducioso nonostante il ritardo in classifica, Amos. Beh, questo è positivo. Cioè, come posso dire, è stato comunque... Quando un allenatore si esprime in questo modo... come se avesse avuto la convinzione di dire... Sta lavorando in tranquillità. Sì. E questo è importante per una squadra di calcio a questi livelli perché vediamo cosa sta succedendo in altre società che non c'è questa tranquillità. Anche perché poi, tutto sommato, questo derby giocato con un risultato negativo di 0-0 non è che poi ha distrutto sia uno che l'Inter, rimane in corsa... No, esatto. La Juventus rimane in corsa... Sostanzialmente è un buon punto, nel senso che non hai perso, certo si poteva vincere, però non hai neanche perso. Però ho visto una Juventus in ripresa che può ben sperare nel futuro del cammino del campionato. Anche perché se non ci dovesse essere questa speranza di vedere una Juventus diversa... Ci sarebbe da preoccuparsi, diciamo, sì. Molto, molto. Ma io non mi preoccuperei più di tanto perché lo dicevamo un tempo dietro, no? No, vedremo una Juventus a dicembre verso i primi di gennaio e quindi sicuramente... Poi c'è il Torino ancora, abbiamo il derby del Torino che è importante. Tra poco vedremo anche il calendario. Anche lì è un'altra... Quindi Allegri sta lavorando con serenità e i giocatori li ho visti in campo non nervosi. Nonostante l'importanza del derby... Sì, l'importanza del match. Non erano nervosi. È vero. Amos, hai citato il Torino. Possiamo vedere, grazie all'aiuto della grafica, che intanto poco fa ha fatto vedere la mail a cui scriverci, zona.juve1897.gmail.com Possiamo vedere il calendario. Bene, le prime otto giornate sono andate, nove punti sicuramente sono pochi. Adesso però arriva l'Atalanta, che è in forma. Poi ci sarà il... il turno di prossima settimana con il suo suolo in trasferta e poi il Torino prima dell'Empoli che chiuderà il ciclo di partite che porteranno alla nuova pausa per le nazionali. Diciamo che la Juventus affronta squadre in forma perché l'Atalanta, l'Atalanta e il Torino sono squadre in forma, però può fare filotto. Nel senso può raccogliere tanti punti. Beh, fare un filotto adesso... Sarebbe oro. Vuol dire andare a 18, eh. Vuol dire andare a 18 punti. Quindi bisogna vedere cosa fanno quelle davanti. Quindi un altro problema adesso è giusto fare il filotto, anzi me lo auguro, ma dobbiamo anche sperare che le altre perdano qualcosa per strada. Vabbè, diciamo che se la Juventus non inizia a fare punti le altre possono anche perdere, ma la Juventus... Comunque ci sta il filotto. Dipende proprio dai ragazzi di Allegri. Se si convincono che questo pilotto è possibile fare, devono andare in campo concentrati, senza nervosismo, e cercare di portare a casa i risultati. Direi di andare ad ascoltare ancora le parole post-derby d'Italia di Gianluigi Buffon. Beh, contento no, però sicuramente ho rivisto delle cose positive, dei segnali di crescita importanti che dovevamo dare in una partita come questa, al di là del risultato. Per Stattano, su che Inter hai visto in quest'anno? È più squadra? Sì, è un Inter sicuramente più muscolare, più fisica, disposta anche con più logica in campo, perché poi alla fine l'animo e il carattere e la voglia di lottare spesso e volentieri te la dà anche come si è messo in campo, se c'è una logica, no? In tutto quello che stai facendo, perché il giocatore lo percepisce questo. Sicuramente è una squadra da tenere in grande considerazione per la vittoria finale. Dobbendo di bilanciare un po', in ottima sfidato, chi vedi? Beh, chi vedo? È un campionato strano, non c'è nessuno ad oggi che ha allungato, tant'è che noi, insomma, con nove punti dopo otto giornate, che sono una miseria, siamo solo a nove punti dalla vetta, no? Per cui significa che un po' tutti stiamo stentando, ci sono tante sorprese e probabilmente nel prossimo mese e mezzo si delinerà una classifica un po' più, chiamiamola normale. Lo ha definito un campionato strano già Luigi Buffon, non ha tutti i torti, in effetti la fioratina, nonostante la sconfitta, è rimasta là su in alto, capolista, la Juventus è in ritardo, invece in gradatoria. Comunque abbiamo un altro ospite al telefono Amos, che è Marco Venditti. Buonasera Marco, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Marco. Ecco, dobbiamo commentare con Marco Venditti ancora il derby d'Italia. Una battuta, poi ci concetteremo anche sulla Champions League. Marco, che partita hai visto? la Juventus ti convince, potrà competere per il titolo oppure bisogna ragionare? Una partita alla volta, vinciamo la prossima e poi piano piano iniziamo a pensarci. Ma dunque, io dopo aver visto questa partita o derby d'Italia, per chi ama ancora definirla in questo modo, So che non sei d'accordo. Ma no, per tutta una serie di cose. Comunque rimane, non sono d'accordo, invece su un concetto molto chiaro e si è visto nella gara che la Juventus ha giocato. Cioè, non è una Juve incisiva. Allora, manca di determinazione, manca di cattiveria al momento giusto e manca, mi permetto di dire, di coralità. E poi, tutto sommato, la cosa più importante, perché quando c'è coralità, arrivano anche altre situazioni. E poi, in modo particolare, mancano proprio i gol, perché non puoi trovarti. Adesso, con tutto il rispetto dell'Inter, per carità, è una squadra di tutto rispetto, con dei giocatori di livello, però comunque è una squadra che sinceramente la Juventus avrebbe dovuto quella partita far sua in più di un'occasione. Purtroppo non ti puoi permettere di sbagliare il gol, nel caso di Zaza, nel caso anche di Morata. Ecco, adesso siamo le solite, se avessimo avuto Terez, ma anche Terez sbagliava, tant'è vero che Terez sbagliò un gol in finale contro il Barcellona, che è molto, molto importante. È una Juve che non ci sta, è una Juve diversa, sicuramente si è riaperto un altro ciclo. È una Juve che quest'anno, secondo me, senza scomodare grandi matematici, ma per vincere il campionato, può addirittura permettersi di perdere ancora cinque partite. Ieri ho subito parlato con un mio amico, che lui invece è uno molto attento ai conti, ha detto sì, la Juve si può perdere cinque partite per vincere ancora il campionato, però comunque sono delle magre consolazioni. Non c'è la Juventus, non c'è ed è anche lontana, tra l'altro, dalle altre squadre che sembrano non perdere colpi. La cosa che mi preoccupa di più non è tanto non poter rivincere il campionato, e questo mi dispiace per il quinquennio eventuale che si era già vociferato, ma per un fatto veramente di allerta. E l'allerta sta nel fatto che la Juventus potrebbe anche addirittura rischiare di ne rientrare fra le prime tre. E non sto assolutamente esagerando e drammatizzando. Alla fine la distanza è quella dalla Vetta e dalla Champions League, in questo momento è quella la distanza con tante squadre davanti. Io sono stato sempre uno con i piedi molto in terra, molto attaccato alla Juve per carità, anche con una piccola dose di pessimismo bianconero, perché quello è classico, è un pochino ereditato dal mio primo periodo di Juventus tanti anni fa con buoni perti, però qui c'è poco da essere, qui bisogna essere chiaramente razionali, razionali, le cose non vanno. Marco, io condivido un po' la tua analisi, non perfettamente tutta, anzi direi che per quanto riguarda non la mettiamo dentro, sono d'accordo con te, perché lo stoccatore non è ancora al top, ce li abbiamo gli stoccatori, però purtroppo hanno avuto anche un pizzico di sfortuna, certo con la sfortuna non si va da nessuna parte, però vedi Marco, secondo me la coralità comincia a esistere, perché io ho visto un secondo tempo di una Juventus abbastanza in palla, quindi manca ancora diciamo quella sfrontatezza di sfruttare il momento migliore della partita, e questo manca veramente, per il resto devo dire che io sono un po' più fiducioso di te, perché forse è nel mio DNA che non sono mai stato pessimista a livello generale, diciamo, io vedo una Juventus leggermente in ripresa, che naturalmente avrà delle difficoltà, come dici tu, perdere i 5 partiti ci stanno, ma io sono convinto che non le perderà queste 5 partite. Speriamo, speriamo veramente. No, perché credo nel lavoro di Allegri. Marco, Marco, velocemente, credi nel lavoro di Allegri, come ti ha chiesto Amos? Come ha detto Amos? Assolutamente sì, perché io, Allegri, ho avuto anche modo di parlarci personalmente qualche minuto e più di qualche minuto in diverse occasioni ed è una persona molto preparata ed è una persona convinta e sa quello che vuole e quindi è una persona determinata e questo mi dà molta fiducia. Poi d'altronde Allegri, quando arrivano gli eventi io dissi subito attenzione perché questo signore ha un DNA particolare per l'Europa a differenza di Conte infatti i fatti mi stanno dando e ci stanno dando E a proposito di Europa mercoledì arriva il Borussia Mönchengladbach partita importantissima da 1 a 10 diamo Dottor Jack il Mr. Hyde sono assolutamente convinto che non dico gli asfalteremo ma potrà essere una Juventus vittoriosa proprio per i punti che dicevo una Juve meravigliosa fuori in campionato balbettante quindi credo non dovrebbe avere problemi da Juve speriamo allora grazie mille intanto a Marco Venditti per il suo intervento ciao Marco ciao ciao carissima abbiamo concluso il giro di telefonata per questa puntata ringraziamo sia Gepero Satucci che Marco Venditti dobbiamo andare ad analizzare con Amos che cosa va e che cosa non va nella Juventus allora diciamo che questi primi 20 minuti l'abbiamo praticamente riassunto però grazie all'aiuto della redazione di Estenews che ha lavorato in nottata per preparare tutti questi dati abbiamo una grafica che riassume che cosa va e che cosa non va possiamo vedere iniziamo dalle cose positive che cosa va ecco va sicuramente la difesa perché abbiamo visto un ottimo Barzaldi che ha giocato una partita incredibile rientro degli infortunati e poi vabbè qua fate gli scongiuri perché ancora c'è da giocare la partita con il Borussia opera compiuta a metà in Champions League sei d'accordo? beh sulla difesa assolutamente d'accordissimo perché se continuo di questo passo probabilmente non prenderemo gol in futuro spero rientro degli infortunati è positivo però vedi quando rientra un infortunato che è un tempo che non gioca beh bisogna aspettarlo anche Marchisio che dira ne sono tornati i giocatori bisogna aspettarli ancora per quanto riguarda i minuti di fuoco ci vorrà un po' di tempo dai in parte diciamo l'80% andiamo a vedere anche le cose che non vanno qui c'è qualcosa in più vabbè il distacco in classifica mi sembra chiaro evidente scelte tecniche offensive in effetti qua invece tu sei stato d'accordo con la scelta di Zazza però diciamo che Allegri ha cambiato un po' troppo ultimamente non è stato mai con la stessa coppia di attaccanti per due partite di fila ci sono diversi aspetti da sottolineare Pogba e qui direi di non tornarci più su perché ne abbiamo parlato tenuta fisica perché forse ieri per la prima volta la Juventus ha giocato meglio il secondo tempo che il primo però in altre occasioni ha dimostrato invece di perdere tanti punti nei finali di gara allora per quanto riguarda il distacco in classifica non ci sono dubbi sono tanti e sono pochi ovvio però c'è tempo di recuperare sulle scelte tecniche offensive cosa ne pensi? sono d'accordo perché lui ha bisogno di vedere tutti i giocatori che ha a disposizione perché prima o poi dovrà fare una scelta definitiva e se non li prova tutti ci sarà anche la riprova di Rugani anche questo che ancora non ha giocato esatto un giocatore importante che sa di avere in mano un giocatore giovane con buone speranze probabilmente lo vedremo all'opera anche lui in questo periodo io spero ma però finché c'è un Barzagli così insomma sarà tosta però magari non so contro il Sassuolo così eccetera potrebbe anche perché anche Barzagli ha bisogno di riposo perché insomma non è più un giovanotto un ragazzino per quanto riguarda la tenuta fisica al volo Amos che poi deve leggere i tuoi mail la tenuta fisica per me sta andando bene prima erano un po' accusavano verso la fine del secondo tempo il quarto d'oro alla fine oggi no dopo la partita con l'Inter ho visto che il secondo tempo sta crescendo la condizione fisica ascolta intanto Amos dobbiamo sottolineare che ci hanno scritto in tanti l'abbiamo fatto più volte all'indirizzo mail zona.juve1897.gmail.com perfetta la regia Luca Gaeta che salutiamo e ringraziamo per la mail ci ha chiesto di Alexandro in effetti 26 milioni pagato questo calciatore non è mai stato utilizzato come mai e soprattutto secondo te chi arriverà a gennaio? ebbè a gennaio sicuramente un trequartista Hernanes non ha praticamente convinto secondo te? non è un trequartista vero e proprio Hernanes diciamo che è un centrocampista da pacco che cerca anche lui di andare in gol e aiuta il centrocampo mentre per quanto riguarda Alexandro beh io sono sicuro siccome fisicamente è molto dotato e poi è un giocatore che ha del talento anche per lui verrà il momento del del debutto dovevo avere proprio in prima squadra diciamo che aveva iniziato bene con l'udinese poi dopo è stato un po' accantonato da Max Allegri però ci sarà ancora spazio io per quanto riguarda il mercato invece dico agli amici da casa che arriverà con tutta probabilità un attaccante alla Juventus non parliamo di Tevez però arriverà un attaccante beh io non sei d'accordo? no che non sono d'accordo secondo le mie forti arriverà un attaccante poi nel prossimo settimana sveleremo a noi ci manca un trequartista vero e proprio quello che è detto ai tempi quello che insomma darebbe diciamo così una veramente un centrocampo completo ecco completo che oggi un pirlo che purtroppo se tornasse il pirlo lo riprenderei volentieri comunque niente se arriverà un attaccante bisognerà vedere poi dopo quale sarà lo schema che userà lei perché di attaccanti ne abbiamo diciamo che non è che siamo sprovvisti leggermente sfortunati perché l'avvento sei coperta per l'inverno dai che dovrà affrontare io mi auguro che arrivi veramente qualcuno di importantissimo aspetta Amos che togliamo l'auricolare anche perché siamo in chiusura io ringrazio naturalmente tutti voi che ci avete seguito ringraziamo Sancelotti ciao Amos ciao a voi tutti e buona serata forza Juventus ancora una volta grazie a tutti voi per averci seguito ci ritroviamo settimana prossima sempre qui con Zona Juve un saluto le vigne le vigne De Caro dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano le migliori uve il miglior vino dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro azienda agricola De Caro San Vincenzo La Costa 0984 40 42 08 i vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli permercati e supermercati Il Gigante